Oggi 25 settembre qui a Udine per Comp FWG abbiamo parlato di tutela e condivisione del patrimonio artistico-culturale, passando dal diritto d'autore e il concetto di pubblico dominio di libera utilizzazione per arrivare alle licenze Creative Commons, le licenze Open per eccellenza. Qui abbiamo una slide in cui ho spiegato che nelle licenze Open i permessi, le libertà concesse prevalgono sulle condizioni imposte ed è stata una bellissima occasione di formazione all'interno del percorso su Open Data per i Friuli Venezia Giulia. La prossima occasione di approfondimento sarà con Maurizio Napolitano il 10 di ottobre, martedì 10 ottobre, sempre qua a Udine.